Partita che volevamo fortemente perché i ragazzi lavorano molto bene in allenamento e quindi è un po' il premio per il lavoro che stiamo facendo, sono molto contento per loro, sono un gruppo di ragazzi bravi che lavorano e quindi era il giusto merito per il lavoro che stanno facendo. Partito difficile perché tra l'altro venivano da una settimana molto complicata per una trasferta allucinante fatta in Ucraina, però devo dire che i ragazzi sono stati veramente encomiabili, abbiamo avuto qualche momento di difficoltà all'interno della gara dal quale siamo ritornati, quindi bene così, Fittore che ci voleva per dare fiducia al gruppo che ripeto sta lavorando bene. Grazie coach, ci sono domande? Sì, partendo dalla fine, grandissima difesa dell'ultimo quarto, giocata in parte anche con le seconderine per questioni di falli eccetera, questo dà un segnale di compattezza del gruppo rispetto alla settimana scorsa a stare ancora più lenti? Beh, devo dire che anche la settimana scorsa la panchina ha contribuito a Bologna e devo dire che oggi è stata altrettanto brava con Massimo, con Jack, con Usman, devo dirti che è venuto dalla panchina e un contributo l'ha dato, quindi quello che tu dici è vero, questo è un bel segnale, vuol dire che c'è compattezza e che ovviamente abbiamo anche delle risorse dalla panchina, non che avesse dei dubbi, ma mi fa piacere per tutti i ragazzi che hanno fatto una buona gara. Sì, e chiedo ancora, dal punto di vista mentale è stato un passo avanti importante, perché appunto in una partita precedente la squadra si era un po' sbagliata? Beh, la partita in Ucraina secondo me è da mettere da parte, io penso alla partita con Napoli persa di uno e quella di Bologna persa per un altro tiro sul ferro, quindi vuol dire che la squadra aveva prodotto comunque qualcosa. Ci mancava la vittoria che è arrivata questa sera, penso che questo sia il premio, ripeto, come dicevo prima, per il lavoro che stanno facendo i ragazzi e deve essere un punto ovviamente, un primo passo nel cercare di essere veramente volitivi e convinti che abbiamo qualità e dobbiamo ovviamente metterla in campo. Perché onestamente anche rispetto a Bologna la squadra ha fatto una buona partita, poi ci è sfuggito per poco, così come con Napoli, però la cosa che mi piace è che stiamo cercando di progredire sui nostri errori, sulle cose che ci sono mancate, ma soprattutto mentalmente oggi era una partita difficile e i ragazzi bravi a portarla via. Grazie a tutti! Grazie a tutti!